ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente dopo quattro giorni di utilizzo posso dirvi come si è comportato questo moto xplay versione dual sim quindi import qui abbiamo anche la possibilità di espandere con micro sd la 16 gb di memoria interna ma passiamo subito all'ergonomia di questo dispositivo una delle cose che mi ha veramente colpito di più in quanto grazie alla back cover posteriore gommata davvero davvero molto bella almeno per quanto mi riguarda rimovibile potremmo anche sostituirne eventualmente la colorazione ce ne sono di diversi colori di questo moto xplay lo rendono molto comodo e saldo in mano soprattutto grazie anche alle misure non troppo larghe e al peso ben distribuito è uno di quei pochi dispositivi che non mi ha dato la sensazione di utilizzare per forza una cover in quanto veramente l'ho trovato molto molto saldo quindi ottima questa soluzione che poi può piacere o meno per quanto riguarda l'estetica ma sicuramente in mano lo rendono davvero gradevole l'ergonomia complessiva di tutto il dispositivo è anche stata promossa grazie al fatto di essere come potete vedere stondato qui come misura va a restremarsi nei lati quindi quando l'utilizzeremo per telefonare o anche quando otteneremo in mano come potete vedere seguirà un po la curvatura naturale delle nostre mani quindi promosso per questo tutto questo punto di vista lateralmente come potete vedere hanno messo il tasto home nella parte un po più alta rispetto a quelle del volume scelta secondo me non troppo azzeccata in quanto non è facile da raggiungere in tante occasioni anche se è stato ben identificato con una lavorazione diversa rispetto a quelli del volume quindi sarà facile ritrovarlo anche quando ci sarà buio saremo in camera ovvio che però non è molto naturale arrivare così in cima per premelo e andare a risvegliare lo schermo per quanto riguarda poi il resto della composizione potete vedervela tranquillamente all'interno dell'unboxing comunque a mio avviso per quanto riguarda soprattutto l'aspetto ergonomico di questo prodotto non ho nulla da dire ok moto x manda su whatsapp eccoci qua ragazzi come potete aver visto una delle cose che contraddistingue sicuramente questi motorola ma soprattutto questo motorola che ho appena provato vi dico è la possibilità di andare a interagire con il nostro dispositivo grazie all'applicazione moto come potete vedere qua andremo a scegliere la nostra frase per andare a richiamare il nostro motorola moto x e avremo la possibilità di dettare un messaggio direttamente su whatsapp che funziona anche molto bene l'ho utilizzato in macchina molto spesso e vi dico essere una cosa che mi sta mancando sul dispositivo che ho in test in questo momento quello che poi può fare questo tipo di programma per esempio è far accedere alla fotocamera ruotando lo schermo e una invece grave mancanza che non è stata diciamo è implementata su questa versione perché sono stati tolti dei sensori era un la possibilità di andare a visualizzare se abbiamo ricevuto delle notifiche semplicemente andando a passare la mano in questo modo di fronte c'è anche schermo spento quindi con altre versioni di motorola facendo questo movimento avevamo avevamo schermo quelle che erano le notifiche che avevamo ricevuto e dare un attimo andare a vederle qui mancando un led di notifica e soprattutto non avendo anche il doppio tap per il risveglio dello schermo in tante occasioni saremmo costretti a risvegliarlo premendo il tasto laterale a parte questo vi dico l'interfaccia android è quella stock quindi non è stato cambiato nulla a parte l'aggiunta appunto di questo moto voice ma soprattutto ragazzi non abbiamo nessun lag nessun tipo di impuntamento nonostante il processore non sia di sicuro dei più potenti nel mercato in quanto è uno snapdragon 615 un octa core medio gamma ma con 2 giga di ram l'hanno reso sempre veramente puntuale perfetto senza nessun problema quindi a mio avviso sembra molto più potente di quello che è il processore montato su questo motorola grazie probabilmente all'ottimizzazione eseguita in casa motorola un'ottima parte telefonica quindi una qualità audio da primato mi sembra veramente di utilizzare un telefono fisso nelle chiamate switch fra il 4g 3g 2g molto veloce nessun problema e il wifi funziona molto bene leggermente forse sotto tono la ricettività in quanto è leggermente più basso rispetto a dispositivi che ho provato ultimamente per quanto riguarda invece la chiamata in viva voce non ho avuto nessun problema essendo posto qui davanti la cassa di sistema potremmo utilizzarlo in macchina per conversare senza nessun fastidio avremo un ottimo volume in uscita dall'altoparlante purtroppo non è stereo comunque funziona molto ma molto bene il gps l'utilizzato per più di 20 minuti il mio solito test funziona bene non ho avuto nessun problema anche sotto questo punto di vista la qualità della cassa in uscita è molto buona come potete aver sentito e anche il volume non è per nulla male ho provato sicuramente i dispositivi più potenti di questi come quantità di volume però sicuramente la qualità è promossa quindi tutto il comparto audio sia di chiamata che in viva voce che per quanto riguarda le varie retti nessun problema l'unità di questo motorola da 5,5 pollici di ottima qualità ma soprattutto parecchio oleofobico quindi non si sporca molto nell'utilizzo normale di tutti i giorni e parecchio luminoso il sole quindi non avremo nessun problema utilizzarlo con tanta luce all'aperto i bianchi come potete vedere sono molto buoni e belli bianchi quindi scusate il continuo ripetere della parola e i grigi neri gialli cioè abbiamo veramente un display di ottima qualità in questo caso nulla da dire a motorola per quanto riguarda la scelta del pannello andiamo a dare anche le classiche immagini di test in alta risoluzione grazie al nostro programmino come potete vedere anche in questo caso l'angolo di visuale qua non vira assolutissimamente l'immagine quindi un pannello molto buono mi ha sorpreso tanto per essere a motorola quindi qualità veramente ottima per questo dispositivo interfaccia della fotocamera molto semplice molto minimale con pacchissime impostazioni classiche di tutti in motorola non sto qua neanche a perdere tempo a farvele vedere ma vi faccio vedere la velocità di scatto di questa fotocamera e soprattutto guardate anche la velocità di fuoco quindi anche a fronte di cambiamenti del fuoco è molto ma molto veloce andiamo a vedere insieme la galleria delle fotografie che ho scattato in questi giorni questa è una fotografia classica che faccio all'esterno a mio avviso sono veramente fotografie di buonissima qualità per essere soprattutto ripeto non un Samsung ormai abituati veramente a fotografie molto molto buone in questo caso qui abbiamo veramente guardate qui anche questa fotografia classica dei coppi quindi una 21 megapixel che sicuramente parla forte dai numeri 21 megapixel ci si aspetterebbe forse ancora di più però diciamo che visto la fascia di prezzo dove si pone questo dispositivo abbiamo una fotocamera di tutto rispetto anche questa è la classica fotografia che faccio come potete vedere anche zoomando di molto le fotografie risultano veramente buone questa è la fotocamera frontale questo è il mio barbone e anche qui posso dirvi che la fotocamera si è comportata molto bene purtroppo non può fare i miracoli per il resto però comunque volevo farvi vedere un'altra foto se riuscivo eccola qua questa è stata fatta con il flash completamente al buio e anche qui perfetto il fuoco perfetto molto veloce nello scatto quindi una fotocamera che sicuramente non considerando i 21 megapixel scritti sulla carta ma considerando la qualità generale per essere un Motorola soprattutto visto il prezzo di vendita una parte fotografica a mio avviso promossa anche i video molto buoni e ben stabilizzati siamo già all'interno della Repubblica con la modalità desktop già precaricata come potete vedere quando la pagina è carica completamente non abbiamo troppi refresh delle immagini anche il pin to zoom, il pinch out, il pin quello chiamatelo come diavolo volete come potete vedere risulta bello veloce e comunque non crea nessun tipo di problema apriamo anche un'altra informazione qui del giornale come potete vedere e anche qua in questo caso ottimo il display ottima la risoluzione che andremo a visualizzare e anche l'utilizzo del browser qui in questo caso con questo dispositivo nulla di male anzi l'ho utilizzato parecchie volte in moltissime occasioni e non mi ha creato problemi quindi un browser web promosso su questo Moto X Play che come vedete non va per niente male vediamo insieme anche Real Racing 3 eccoci qua vediamo di fare l'allineamento dello schermo ok eccoci qua specchietti sono attivi abbiamo anche le nuvole vediamo subito in partenza il gioco come si comporta benissimo come potete vedere anche la qualità di gioco non è per nulla male anzi vediamo con tante auto come si comporta cambiamo anche la visuale così bruscamente in mezzo a tutte le auto benissimo nessun problema sulla parte gaming vi dico ho giocato più di un'ora a Real Racing 3 quindi come potete vedere tutti i dettagli ci sono sono presenti le nuvole e abbiamo veramente tutto al suo posto quindi una parte gaming promossa al 100% quello che comunque contraddistingue poi questo Moto X Play nella famiglia Moto X del 2015 la grandezza della batteria la capienza in quanto abbiamo 3630 mAh di batteria qua vi dico ragazzi anche se lo usate veramente in modo davvero pesante arriveremo sicuramente a cena forse mi sarei aspettato anche qualcosina in più però comunque tutto sommato ho superato le 5 ore e mezza sono arrivato di schermo in utilizzo misto forse anche 6 se non ricordo male quindi una batteria che mi ha davvero entusiasmato non ho avuto problemi grazie poi a tutto il resto del sistema molto fluido questo dispositivo si è comportato davvero bene quindi concludendo ragazzi materiali come già detto all'inizio ottimi la parte telefonica nessun problema lo schermo molto bello visibile al sole oleofobico quindi perfetto per questo dispositivo ricezione buonissima la fotocamera che si comporta davvero bene soprattutto per essere un prodotto da 320 euro online chrome funziona molto bene anche la parte gaming quindi a mio avviso questo Motorola X Play 2015 ha colpito nel segno un bel prodotto che a me è piaciuto tantissimo al di là che sotto al cofano non ci sia il Snapdragon 808 e quant'altro con l'ottimizzazione di Motorola e i 2 giga di RAM si è comportato davvero bene ciao a tutti ragazzi iscrivetevi al canale e mettete un bel like e condividete ciao a tutti